Col sistema per il controllo degli eccessi Dory di BluMotix, rendi più sicuro e smart il tuo hotel o il tuo bed and breakfast. BluMotix offre sistemi tecnologici per qualsiasi esigenza. Installazione è molto semplice e può essere eseguita dal proprio elettricista di fiducia. Il design made in Italy dona un tocco di eleganza all'ambiente. Ancora più semplice è l'utilizzo da parte del gestore. Arriva la prenotazione, in un attimo si effettua la registrazione e il sistema invia il codice sul telefono del cliente. Il cliente digita sulla tastiera il codice ricevuto sullo smartphone per aprire la porta della stanza senza l'utilizzo di chiavi o tessere magnetiche. E se il cliente smarrisce il codice? Nessuna paura! Il gestore, con un clic, può aprire la porta della stanza in qualsiasi luogo si trovi.